partiti in vantaggio si porta a centropista Arrican Glory nei confronti di Rebisigoto all'interno quindi Dusbonner lungo la corda scavalcato ora in terza posizione poi Sweet Force Online seguito da Petite Bon Bon e Special Mission Arrican Glory e Rebisigoto sono in vantaggio a 350 dal palo inseguiti da Sweet Force Online più indietro Petite Bon Bon siamo a 200 dal palo con Arrican Glory che ha preso vantaggio nei confronti di Sweet Force Online e Rebisigoto nel tratto conclusivo Arrican Glory conclude e si impone davanti a Sweet Force Online che regola Rebisigoto poi Special Mission vediamo le immagini della bella affermazione di Manuel Porco in sella al numero 2 dello schieramento Arrican Glory per il posto d'onore Sweet Force Online all'esterno dovrebbe avere avuto ragione di Rebisigoto ma i due sono molto vicini sul palo ed è meglio aspettare il risponso del giudice di arrivo. È tutto per oggi a risentirci martedì 7 febbraio.